In Italia 3 milioni di persone soffrono di acufene, un disturbo uditivo costituito da rumori che sotto diversa forma, fischi, ronzii, flusci, soffi, pulsazioni, vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o in generale nella testa e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre. In Abruzzo nasce il Centro per la Diagnosi e la Terapia degli Acufeni, presso il reparto di Otorino, la ringoiatria della Casa di Cura Privata Spatocco di Chieti, diretto dal dottor Franco De Carlo, il quale nell'ambito della settimana di prevenzione delle malattie dell'orecchio ha tenuto una conferenza nel capoluogo teatino insieme al professor Giuseppe Attanasio, docente dell'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo fatto già il nostro screening e oggi abbiamo un incontro con una serie di pazienti selezionati che faranno oggi con il professor Attanasio una terapia comportamentale fra virgolette, nel proseguo delle tecniche più moderne per la terapia degli acufeni. Questa è una novità per l'Abruzzo e anche per quello che so, anche nelle Marche, per le Molise. Professor Attanasio, in che cosa consiste questa terapia? La terapia degli acufeni è una terapia molto complessa perché il sintomo è un sintomo che è espressione di una difficoltà del paziente di gestire i suoni e quindi certamente c'è una terapia medica, farmacologica, ma da sola non basterebbe. Allora si fa una terapia sonora con degli arricchitori sonori che sono dei dispositivi che vengono fatti apposta per questi tipi di pazienti, ma soprattutto una terapia cognitiva e comportamentale, cioè bisogna far capire al paziente quali sono le strategie comportamentali che possono migliorare o peggiorare questo sintomo molto fastidioso che è appunto questo rumore dentro l'orecchio e poi ovviamente delle strategie di tipo relazionale perché chi soffre di acufeni in genere è un paziente molto solo, difficilmente le persone intorno riescono a capire la sua sofferenza e quindi far capire ai pazienti e ai parenti dei pazienti quali sono le strategie migliori da attuare per ridurre questo sintomo fino poi alla rimozione è una cosa più importante di tutto.